Accanto a me il Presidente dell'Associazione Volontariato di Protezione Civile Stella Maris, Elio Spinella. Buonasera. Buonasera, complimenti per l'iniziativa che ha fatto insieme all'amministrazione comunale di Condofori. Come mai ha scelto proprio questa? Intanto perché qui in questa struttura noi abbiamo il centro COC, ma anche intitolata Casa della Cultura e della Legalità. Quale migliore location per poter poi fare una manifestazione del genere? Tenga conto che la presentazione del libro era già stata programmata da diverso tempo. Abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di avere il Presidente dell'Ente Parco che ci ha onorato della sua presenza. Già la settimana scorsa è stato oggetto di un attentato, hanno fatto trovare dei bossoli sulla sua macchina. Quindi il coraggio, l'onestà mentale, la serietà, la professionalità, la voglia di continuare in un percorso intrapreso del Presidente Bonvino ci porta a continuare su questa strada ed essere fortemente convinti che la legalità e la cultura sia la strada maestra per poter migliorare il nostro territorio. Legalità e cultura, una splendida cornice in cui si evidenzia la giustizia e noi dobbiamo essere testimoni di verità. Cosa ne pensa? Ma sicuramente la nostra stella polare è questa, l'onestà, la giustizia tra di noi, tra le persone. La protezione civile si propone non come un luogo di lavoro ma è un luogo di volontariato dove le persone si donano, donano il suo tempo, donano la passione e insieme a noi lavorano per poter migliorare il territorio ma lavorano non solo nelle calamità quando ci sono delle emergenze, lavorano tutti i giorni perché la protezione civile può essere presente negli ospedali, nelle scuole, in qualunque amministrazione, qualunque sia l'evento, la protezione civile lavora. Questo è il nostro motto e quello che poi ci rende felice è il ciao, il saluto, il sorriso delle persone. Questo è lo intendiamo nel nostro modo di fare. Dunque per combattere la mafia dobbiamo essere tutti insieme, una marcia in più. Ma io sono fortemente convinto di sì e la prova ce l'ha il Presidente Lente Parco. E in quel momento che ha subito quell'attentato, quel gesto era solo. In me che si dica, si sono aggiunte a lui uno, dieci, cento, mille, dieci mila, centomila. Ecco la solidarietà, il rimanere insieme agli altri, non essere mai soli in questi casi aiuta, aiuta il popolo, aiuta la popolazione ma aiuta anche chi ha subito una cosa del genere. Prendersi per mano tutti insieme allora? Certamente, questo è il motto. Più si è, meglio è. Altre iniziative dell'Associazione Stella Maris? Beh, intanto le iniziative abbiamo in campo diverse attività. Abbiamo concluso da poco il corso di operatori di protezione civile. Nelle nostre intenzioni c'è e già incominciamo a preparare la documentazione, a breve dovremmo essere accreditati a livello regionale, della Guardia Costiera Auxiliaria. Abbiamo degli uomini che devono fare dei corsi ma noi siamo pronti a fare dei corsi. Non dimenticando e non sottovalutando che un gruppo di sommozzatori ci chiede l'adesione. Quindi vorremmo essere, pensiamo di poter essere, una protezione civile che si adopra in vari campi. Non siamo solo per l'antincendio, se ancora si fa l'antincendio, non siamo solo per gli atti calamitosi ma siamo anche presenti con delle altre attività che non ci sono sul territorio. Ringrazio e complimenti ancora per le iniziative e alla prossima. Grazie a voi. Grazie.